Beh sì, questo governo per il Paese, come lo ha definito Draghi, credo che possa e mi auguro segnare una svolta, che non è quella di deporre, di far venire meno la politica, ma quella di trovare ciò che ci accomuna più che ciò che ci divide. Se Draghi riuscirà in questo compito vuol dire che avrà dato una grande mano all'Italia. Più che altro è un modo per continuare a guardare al passato, ovviamente noi non siamo nel Partito Democratico, ma mi sembra, almeno da parte del Partito Democratico, un atteggiamento che non appartiene alla storia di chi si definisce riformista. Se c'è una sfida, che è quella di lavorare per l'unità del Paese, non è riprendendo e rimettendo all'interno di questo governo, che è senza formula politica, questo è, l'ha ribadito anche ieri Draghi, rimettendo le vecchie formule politiche che si aiuta alla nascita di questo governo. Noi eviteremo di fare la contrapposizione centrodestra e centrosinistra, anche perché come centrodestra non abbiamo bisogno di fare l'intergruppo del centrosinistra. C'è già una coalizione, lavoriamo già insieme e anche se Meloni con coerenza ha fatto la sua scelta di stare all'opposizione, porteremo avanti sui contenuti le battaglie in Parlamento e all'interno del governo. Però credo che non serva alzare i muri in questo momento, ma ho visto che c'è dibattito anche all'interno del PD, mi auguro che ritorni la buona politica.